La fine della guerra nella vicina Libia e l'accoglienza di profughi e rifugiati in arrivo dall'Africa. Si è concentrato su questi temi il messaggio pasquale del Papa per la tradizionale benedizione Urbi e Torbi. 150.000 fedeli hanno affollato Piazza San Pietro, cui Benedetto XVI si è rivolto con gli auguri in 65 lingue. In Libia la diplomazia ed il dialogo prendono il posto delle armi e si favorisca nell'attuale situazione conflittuale l'accesso dei soccorsi umanitari a quanti soffrono le conseguenze dello scontro. Nel messaggio del Pontefice non sono mancati riferimenti anche al Medio Oriente e al dramma del Giappone. Poi un auspicio per l'Italia perché ritrovi unità e concordia.